Posso farvi una domanda, madame? Certamente, maestra. Voi credete nell'ordine? Ordine? Ordine nel paesaggio. Ecco, io lo apprezzo. Guardando questi progetti, non sembra esservene traccia. Non sono d'accordo. C'è costanza a sufficienza nel numero 6 per suggerire una salute e armonia. Voi credete nell'ordine nel paesaggio? L'ordine sembra imporci di rivolgere lo sguardo a Roma o al Rinascimento. Voglio dire, sono certa che esista qualcosa di unicamente francese che noi finora non abbiamo celebrato. Le regole dell'ordine servono a scoprirlo. Tutta la mia opera si basa su un principio che voi scegliete di negare. Mi chiedo perché vi siate candidata per lavorare con qualcuno che ritenete ormai antiquato. Signore, io non nutro che ammirazione per la grandezza della vostra opera. Avete scoperto tecniche sopraffine. Mi scuso se le mie parole vieno in qualunque modo offesa. Forse, madame, quando sarete stata esposta al ridicolo per il tempo in cui questo è toccato alla mia famiglia, ripenserete alla nostra conversazione. Buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.